Siamo Siamo E' we come dub Baguette di merda Baguette del cazzo Ciao raga Bella amici Vi avevo mutato e non riuscivo Eh infatti questo qui è ok No comunque io non so cosa fare con Goom No Vai ma lo caccio fuori Ha rotto il cazzo No dai cacciarlo fuori Cacciarlo fuori no perché dai mi dispiace Però non deve Vai ciò se la cerca Cioè non vedi Ah sabato rap è l'anus Ciao C'è un po' di PEN 2000 No no io lo caccio fuori No no io lo caccio fuori Mi ha fotte cazzo sinceramente Cioè nel senso se a noi qui stasera lui non c'è Allora che senso ha contarlo Eh lui sta giocando con un altro clan Uno mid Vaffanculo due mid Eh appunto mi giro il cazzo Per quello che lo voglio cacciar fuori Dai siete 4 v2 E una miglia Eccolo Bravo Sì infatti lo sentivo che era qua Sì che era qua vicino Nooo Ma non so di tutto Ma non so di tutto E poi Giovi Non mi stava mai più simpatico Perché ogni volta che morivo Infatti Rumbini Stavate di scapparti E di ricordarsela Lascia stare Lascia stare No vabbè Albi Più che altro Cioè Sei molto 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 Indietro Ma io bando Cioè Non riesco a giocare Una è minuto dietro Ecco la sinistra Da lì Venito a sinistra Sì l'ho fatto la sinistra Ancora ancora La dietro Indietro Eccolo Sì l'ho fatto la sinistra Poi Delle Di troppo in massi Dai Vaffacculo Una è in trincea A me ne ho inciso qua Oh che per me c'è uno lì Eh Eh Vabbè Dicevo Dalla ma no f***** no comunque si raga, si dovinano la l'armonia che c'è nel gruppo eh no no ma infatti per me non c'è problema, ormai è fuori io no no, non parlo, non scrivo, la partisco con voi perché non siete che lo comando per dire, non posso fare però secondo me è da cambiare qualcosa dico per il gruppo eh per voi no ma infatti io gunfail lo faccio fuori guardi il cazzo il pitch ti dovresti imporre un po' di più anche se non ti piace ti dici vabbè è una roba di gruppo così però no però mi sembra posso dire una cosa posso dirti una cosa aspetta aspetta c'è un problema più grosso Gunfest è stupido se te gli spieghi le cose lui non capisce ma bambini stupidità tutto quello che vuoi però per quello ci deve essere qualcuno che l'ha visto? danny è veramente difficile a gestire uno come lui è veramente stupido però se vuoi farlo devi devi metterti lì incazzato brutto è palloso perdi tempo non hai volo lo so nooo ma fai tantissimo qua la gente sarà sempre così raga usciamo che c'è aspetta no mi ha fatto il video baguette ma la baguette la mangi o te la metti Arturo oh le dc ragazzi le fdc c'è un derby c'è un derby con i dc qua ma guarda il loro clan di là ma che scarsa ma te stai parlando di gunfight? cioè di impormi no 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 importi un po' con tutti perché se non c'è il leader che si impone nel modo giusto eh attenzione non può andare avanti perché ognuno prende le sue decisioni ma perché la gente è stupida perché se no si potrebbe fare tutto da solo dai per me se volete uscire fare il terzo salvio non c'è un problema no fra ma io non partecipo neanche no 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 dico adesso se volete uscire dalla partita quello che voglio dire io no chiaramente se stai parlando di un discorso e te ne ho detto un altro no io c'è dell'idea che il nostro gruppo è formato in un modo in cui cioè le cose che ci diciamo sono tutte allo stesso livello nel senso cioè siamo più amici che cioè siamo vabbè sì poi vedete voi quello che non capisco è il comportamento di gunfight che adesso si quello che non capisco è il comportamento di gunfight che va a influire secondo me su tutti cioè non anche le cose che scrive pressa cioè doma che lo seguono anche fastidioso e poi poi adesso c'è e anche francis come facciamo raga c'è Fabio ma affare ma affare oh danny ma com'è sto col di mi chitaria nei signi ma lascia stare fra mezz'ora risultato addio voglio gli ho spaccato i tutti gli ho spaccato i tutti 4 a 0 tutti a casa vinta la coppa italia quindi vinta la coppa eh vinta la coppa eh che coppa dei nonni no fantacalcio che fa lui ehm 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 ho vinto il primo turno frate ehm primo turno ehm fantacalcio mitch non puoi capire primo turno cosa avete fatto? ehm 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 quello lì quello lì ma primo turno cosa significa? lo fai? ho vinto il primo turno di coppa eeeh ma cos'è la coppa? ma come giocate voi? chissà ma come giocate? ma ci sta entrando la eh però non possiamo fare ladder con danny no facciamo 5v5 edifico ma lui pensa che adesso cerchiamo ladder così oh ma c'è Gaffet che sta facendo la claw war con il suo clan? lo so infatti per me lui deve mettere fuori io lo caccio fuori ok buttalo buttalo a posto che ci aspetti porco dio ok a posto fa tanto il coglione parla parla buttalo fuori ah ragazzi è aperto se volete fare qualcosa facciamola adesso perchè io a mezzanotte 30 e 40 cosa è che non faccio più? eh adesso io sto già cercando eh non ti preoccupare è sopra la finestra proprio è sopra la finestra dai vaffa a culo mi sono alzato proprio adesso ma sono albi albi non parlare oddio buoni vuole ah sopra la piccadina è zitto quagliona muore di mare cazzo riri ah era un altro shut up you will die tomorrow no idiot no michele non c'è cosa ma c'è che feruta anche eh che sei suoi ci dirò oh albi caccia fuori gunfire non è vero 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 non è vero